primo esercizio ad esempio siete proprio desiderosi di vedere questa rifrazione quindi andate al mare la sera vi mettete in riva e puntate una torcia con che produce un raggio luminoso sull'acqua quindi avete un raggio che arriva così con un angolo di 60 gradi attenzione rispetto alla superficie del mare quindi sotto avete l'acqua e sopra c'è l'aria vogliamo sapere questo raggio luminoso con che angolo entra in acqua cioè a livello di disegno io voglio sapere praticamente quanto vale questo angolo qui vi devo fornire qualche dato ovvero l'indice di rifrazione dell'aria è 1,003 spesso negli esercizi si fa finta che sia circa 1 vi avverto in alcuni casi addirittura non ve lo danno cioè se c'è l'aria danno per scontato che sapete che ha indice di rifrazione 1 l'indice di rifrazione invece dell'acqua questo non dovete saperlo a memoria è 1,33 come risolvo questo esercizio questa rifrazione standard classicissima utilizzo la legge disnell n seno di teta 1 uguale a n seno di teta 2 chi sono qua n 1 ed n 2 sono quelli dell'aria e dell'acqua vediamo un po' quali dati conosciamo già i due n li sappiamo quindi n dell'aria è abbiamo detto circa 1 1,003 quello dell'acqua è 1,33 l'incognita che stiamo cercando è questo teta qui e qua occhio ah ma quindi conosco già anche l'angolo dell'aria è 60 gradi no occhio 60 gradi non è teta dell'aria teta dell'aria è questo qui come lo trovo questo qui è 90 gradi meno l'angolo in rosso quindi è in realtà 30 bon inserendo dati questa roba è 1 per il seno di 30 gradi uguale a 1 e 33 per il seno di teta dell'acqua che dobbiamo trovare isolando il seno di teta dell'acqua ottenete seno di teta dell'acqua uguale a 1 per il seno di 30 gradi fratto 1,33 se fate il calcolo ottenete circa 0,38 vi prego vi scongiuro siete arrivati a questa situazione seno di teta dell'acqua uguale a 0,38 non fate la seguente cosa ho visto gente che ci prova fratto seno perché big brain così si cancella il seno isolato teta questa cosa è illegale vi viene la pulizia fisica a casa ok se fate una roba del genere seno di teta dell'acqua è tutto un blocco unico non potete dividere non c'è una moltiplicazione lì dentro per togliere il seno dobbiamo fare un'altra operazione c'è una tecnica apposita per levare il seno dalle equazioni che è utilizzare l'arco seno cioè io piglio questa roba e applico a destra e a sinistra dell'equazione la funzione arco seno a che serve l'arco seno l'arco seno è fatto apposta perché riesce a ammazzare il seno che c'è lì a sinistra quindi rimango con teta dell'acqua che è l'arco seno di 0,38 e voi lo so che state pensando oddio l'arco seno non l'ho mai visto cos'è questa cosa mistica come lo calcolo ve lo fa la calcolatrice sulla calcolatrice l'arco seno spesso è indicato come seno alla meno 1 è la stessa roba quindi voi pigliate la calcolatrice e le dite fammi l'arco seno seno alla meno 1 di 0,38 e lei ve lo fa senza discutere ottenete 22 gradi quindi il raggio luminoso entra nell'acqua con un angolo di 22 gradi passiamo al secondo esercizio abbiamo un raggio luminoso che sta viaggiando attraverso una sostanza non meglio identificata la chiamiamo sostanza x arriva poi a un'interfaccia cioè una superficie che la separa da un'altra sostanza che chiamiamo sostanza y sappiamo però che dalla sostanza x lui se ne esce con un angolo di 20 gradi dall'altra parte invece nella sostanza y l'angolo è di 20,2 gradi quindi è un pelo più grosso nella sostanza 1 noi conosciamo un po di dati ovvero sappiamo che la velocità del raggio nella sostanza 1 nella sostanza x è 2,8 per 10 alla 8 metri al secondo non solo sappiamo che la lunghezza d'onda nella sostanza x è di 600 nanometri nanometri già che ci siamo li convertiamo in metri sono 600 per 10 alla meno 9 metri ci vengono chieste un bel po di cose ovvero dobbiamo calcolare l'indice di rifrazione della sostanza y dobbiamo calcolare la velocità della luce nella sostanza y la lunghezza d'onda nella sostanza y e la frequenza nella sostanza y quanta roba direte voi non preoccupatevi visto che è un esercizio di rifrazione le formule non sono tante ce n'è una che devo usare sempre e quindi ce la scriviamo n seno di teta uguale a n seno di teta in questo caso avremo n x seno di teta x per la prima sostanza ed n y seno di teta y per la seconda sostanza e lo so che state pensando è ma matteo ma io non conosco l'indice di rifrazione né quello della x né quello della y come faccio non preoccupatevi perché è vero che non conoscete n x al momento questo non lo so ma n ha una sua formula n x è c fratto v x cioè la velocità della luce nel vuoto c è sempre quella sempre lo stesso numero fratto v x che ci viene dato quindi questa roba è 3 per 10 alla 8 fratto 2,8 per 10 alla 8 quindi si può calcolare senza problemi se fate il conto di questo bel signore ottenete 1,07 quindi conosciamo l'indice di rifrazione della sostanza x già che ci siamo segniamocelo qua sopra e nel resto della formula che cosa conosco teta x lo so mi è stato dato sono 20 gradi teta y pure lui mi è stato dato questi sono 20,2 gradi l'unica cosa che non conosco è n y che infatti devo trovarlo questo è l'incognita isoliamo n y n y quindi è n x per il seno di teta x fratto il seno di teta y se ci mettete dentro i numeri quindi questa roba è 1,07 per il seno di 20 gradi fratto il seno di 20,2 gradi risultato di questo meraviglioso calcolo 1,06 e quindi abbiamo trovato l'indice di rifrazione anche nella sostanza y passiamo adesso a vy e mo che avete l'indice di rifrazione trovare la velocità è un attimo perché c'è la formula apposita n y vi ricordo che formula sua è c fratto vy c è sempre la stessa quindi vy se la voglio trovare sarà c fratto n y cioè 3 per 10 all'ottava fratto 1,06 potere della mistica calcolatrice di windows a me 2,83 per 10 alla 8 metri al secondo e voilà anche questa ce l'avete lunghezza d'onda come faccio a trovarmi la lunghezza d'onda non dice ma la lunghezza d'onda cosa c'entra con la rifrazione la luce è sempre un'onda quindi anche se non è proprio l'argomento specifico può essere che vi chiedano dei dati relativi alle onde noi abbiamo la lunghezza d'onda nella sostanza x c'è un legame diretto con la lunghezza d'onda della sostanza y se non volete ricordarvi a memoria questa formula non è un problema se invece volete n x fratto n y è l y lambda y fratto lambda x quindi il rapporto dell'indice di rifrazione è legato al rapporto delle lunghezze d'onda se io voglio lambda y non la devo isolare lambda y sarà lambda x per n x fratto n y e questi dati ce li avete tutti quindi lambda x è 600 per 10 alla meno 9 per n x che era 1 0 7 fratto il suo compare sotto che è 1 0 6 quello che ottenete è 606 per 10 alla meno 9 metri quindi circa 606 nanometri se non volete ricordarvi questa roba memoria ma volete sapere da dove arriva ve lo faccio vedere subito quindi vediamo perché ho potuto usare questa formula da dove salta fuori lambda y che era proprio la richiesta dell'esercizio compare in una formula sola tecnicamente quella della velocità cioè io so che vi y è lambda y per fy vi y ce l'ho perché l'avevo trovato prima questo era 2 virgola 83 per 10 all'ottava ma non ho la frequenza y qui entra in gioco una proprietà fondamentale delle onde se anche l'onda cambia di sostanza quindi passa dalla x alla y la frequenza dell'onda è l'unica grandezza che sicuramente non varia quindi voi state sicuri che la fx e la fy sono la stessa roba non ha senso distinguerle quindi se io mi calcolo la fx in automatico ho anche la fy come calcolo la fx devo usare la stessa formula ma per la x quindi da qui isolo fx fx sarà vx fratto lambda x quindi abbiamo 2,8 per 10 all'ottava fratto 600 per 10 alla meno 9 se fate questo calcolo ottenete 4,7 per 10 alla 14 unità di misura della frequenza sono gli hertz quindi ho trovato la frequenza x che è anche la frequenza y sono la stessa quindi questa qua la so 4,7 per 10 alla 14 tra l'altro così ho pur risposto all'ultima domanda dell'esercizio per concludere la questione della lambda y ora la posso isolare dalla sua equazione lambda y è uguale a vy fy qua dovete rifarvi il conto quindi fare 2,83 per 10 all'ottava fratto 4,7 per 10 alla quattrodicesima e infatti ottenete sempre circa 606 per 10 alla meno 9 metri che era lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima cifra più cifra meno cambia poco adesso vediamo l'esercizio cattivo questo è un esercizio che è un po più impegnativo non perché ci siano formule astruse ma perché richiede un po di competenze anche di geometria abbiamo una lastra di vetro di cui conosciamo lo spessore 10 centimetri l'indice di rifrazione del vetro ci viene fornito ma attenzione ce ne vengono forniti due dice com'è questa storia ci viene dato l'n del vetro per la luce viola che è 1,7 e allo stesso tempo l'n del vetro di questo vetro per la luce rossa che è uguale a 1,68 vedremo perché ce ne vengono forniti due c'è uno schermo posto vicino a questa lastra di vetro in particolare lo schermo si trova a 50 centimetri di distanza dalla lastra contro la lastra di vetro viene sparato un fascio di luce bianca e viene specificato che è bianca questo fascio luminoso colpisce la lastra di vetro con un angolo di 60 gradi la richiesta dell'esercizio è un po strana calcola l'ampiezza della banda luminosa che si forma sullo schermo questo esercizio ha bisogno di una bella dose di interpretazione nella parte iniziale perché altrimenti qua non si capisce cosa sta dicendo in che senso la banda luminosa ma non è un raggio luminoso cosa c'entra la banda è una banda che suona no il fatto che la luce sia bianca in fisichese è un modo per dirvi che quella luce è fatta dalla sovrapposizione di tutti i colori possibili no avete presente non so se ve lo dicevano da bambini no la luce del sole contiene tutti i colori e con l'arcobaleno voi potete vederli l'arcobaleno è quella roba lì cioè è la scomposizione della luce bianca del sole in tutte le sue componenti quindi quando vi parlano di luce bianca in realtà vi stanno dicendo che c'è un fascio di tanti colori diversi di tante luci diverse che arrivano sulla lastra adesso ve lo disegno quindi avrò il biola poi vicino c'è la luce blu poi ci sarà la luce verde ci sarà la luce gialla e infine la luce rossa in sequenza ovviamente ci sono anche tutti gli altri colori nel mezzo però questo è lo spettro della luce visibile che cosa succede quando tutti sti colori arrivano al vetro colori diversi vengono rifratti con angoli diversi dallo stesso materiale cioè il rosso il viola giallo e compagnia cantante hanno una dispersione diversa all'interno del vetro in particolare la luce viola che è quella con la lunghezza di onda più piccola della luce visibile è quella che viene rifratta di più mentre la luce rossa è quella che viene rifratta di meno che vuol dire la luce rossa tenderebbe a tirare dritta di qua ma subisce una leggera variazione del suo angolo in particolare visto che passa all'esterno di questo vetro c'è l'aria tende ad avvicinarsi un po alla verticale quindi farà una roba di questo tipo mentre la luce viola che ha lunghezza d'onda ripeto più piccola è stortata ancora di più del rosso quindi dovrebbe tirare dritta ma in realtà fa una roba di questo tipo questo lo vediamo anche dal fatto senza fare calcoli strani che gli indici di rifrazione sono diversi nel mezzo ovviamente ci sono anche tutti gli altri colori adesso io ho preso il viola e rosso perché sono quelli che si trovano agli estremi dello spettro luminoso quando poi questi colori arrivano all'altra interfaccia tra il vetro e l'aria cosa succede c'è un ulteriore rifrazione la luce rossa di nuovo sarà quella meno rifratta quella viola sarà quella più rifratta la luce rossa tenderebbe a tirare dritta ma in realtà tende leggermente a struttarsi in questo modo questo raggio dell'aria chiamiamola area 2 è parallelo al raggio rosso dell'aria 1 allo stesso modo la luce viola ripartirà dall'altra parte allontanandosi leggermente dalla verticale questo raggio viola anche se non sembra molto al disegno che ho fatto è abbastanza brutto facciamolo così è parallelo al raggio viola dell'aria 1 di mezzo ci sono di nuovo tutti gli altri colori o adesso finalmente si capisce la sua richiesta perché ci parlava di ampiezza della banda colorata perché sullo schermo a destra si forma non un punto ma tutta una zona illuminata da diversi colori voi effettivamente vedete i colori dell'arcobaleno quello che devo andare a calcolare è l'ampiezza di questa zona qui dal rosso fino al viola come faccio a fare questo esercizio che so che dice oddio devo fare i calcoli per 200 colori diversi no non preoccupatevi i dati sono stati forniti solo per il viola e rosso quindi ci concentriamo su loro due cerchiamo di avere un piano di battaglia come calcolo quella roba la mi concentro su un colore alla volta parto dal viola mi calcolo dove cade la luce viola cosa vuol dire dove cade il viola mi calcolo di quanto è stato spostato il raggio viola rispetto al suo punto di partenza tradotto in altri termini mi vado a calcolare per il viola questa ampiezza qua la chiamiamo y del viola poi mi calcolerò l'equivalente di questa roba ma per il rosso quindi vado a calcolarmi la y del rosso che è questa qui facendo la differenza tra queste due lunghezze scopro quanto è larga la banda colorata che va proprio dal rosso fino al viola e uno dice tutto molto bello ma come mi calcolo la y del viola esattamente dobbiamo dividere la y del viola ulteriormente in due parti perché la y del viola è formata da due pezzi c'è la deviazione dovuta al fatto che la luce viola è passata nel vetro e poi c'è la deviazione dovuta al fatto che è passata nell'aria rifaccio un attimo lo schema qua sotto la luce viola esagerando particolarmente l'effetto della rifrazione fa un percorso di questo tipo visto che noi vogliamo calcolarci questa roba qui questa è la y del viola la scomponiamo adesso in questa prima parte che chiamiamo genericamente adesso a e poi la seconda parte qua che chiamiamo b la parte a è dovuta unicamente all'effetto del vetro mentre la parte b è dovuta all'effetto che ha nel passaggio nell'aria fino ad arrivare allo schermo dall'altra parte come faccio a calcolarmi la lunghezza a qui entra in gioco la geometria si è formato meraviglia delle meraviglie un triangolo rettangolo una di quelle cose che rende tutti felici perché ci sono tante formule che si possono usare che triangolo rettangolo si è formato questo qui questo triangolo rettangolo come lati ha il raggio la lunghezza che dobbiamo calcolare e poi c'è lo spessore del vetro che conosciamo sono 10 centimetri quindi se io riuscissi a conoscere l'angolo che sta qui quest'angolo lo chiamiamo teta del vetro potrei conoscere a perché c'è una formula di trigonometria che vi dice che a è uguale alla base di questo triangolo cioè i 10 centimetri per la tangente del teta v del teta viola quindi se io riesco a cavare fuori teta viola da qualche parte posso trovare a e da dove lo tiro fuori teta viola qui entra in gioco il fatto che stiamo avendo a che fare con la rifrazione cioè mi devo scrivere la legge di snell n per il seno di teta uguale n per il seno di teta che n che teta devo prendere in considerazione intanto visto che parliamo della luce viola dovrò prendere in considerazione la n del viola in particolare questa legge di snell io la scrivo nella parte a sinistra per la zona aria 1 quindi da dove arriva il raggio mentre la parte a destra sarà per il vetro e in questo caso meraviglia doppia conosciamo praticamente tutto cioè n dell'aria 1 lo sappiamo in che senso lo sappiamo il problema non ce l'ha fornito ma quando l'n dell'aria non vi viene dato è sottointeso che valga 1 quanto vale invece teta dell'aria 1 a occhio non farvi fregare non è 60 gradi ma è 90 meno 60 cioè 30 però lo conosciamo n del vetro per la luce viola lo conosciamo è 1,7 posso ricavarmi quello che mi serviva ovvero teta del vetro che è proprio quello che mi serve per fare il conto con il triangolo che ho evidenziato in verde lì vicino ok quindi ora si tratta soltanto di isolare questa roba seno di teta del vetro è uguale a n dell'aria per il seno di teta dell'aria fratto n del vetro qui ci dovete buttare dentro i numeri fate il calcolo scoprite che seno di teta del vetro vi viene 0,294 occhio non è teta del vetro questo è seno di teta del vetro come faccio a trovarmi teta del vetro senza il seno devo applicare a questa equazione il seno alla meno 1 o l'arco seno chiamatelo come vi pare quindi prendo questa roba e faccio a sinistra arco seno e a destra faccio di nuovo arco seno l'arco seno a sinistra ammazza il seno i due sono opposti si annichiliscono l'uno con l'altro a destra invece arco seno di 0,294 questo ve lo fa la calcolatrice non dovete farlo voi non preoccupatevi quindi pigliate la calcoladora e ottenete 17 gradi ok quindi finalmente abbiamo sto benedetto teta del viola utilizziamolo nella formula per trovare la lunghezza a quella che è scritta in grigio a è uguale a 10 centimetri per la tangente di 17 gradi ovvero 3,06 centimetri quindi il fatto che il raggio viola sia passato nel vetro lo ha deviato di 3,06 centimetri ma questo è solo metà del lavoro per la luce viola perché adesso c'è tutta la parte relativa all'area 2 cosa succede quando il raggio luminoso esce dal vetro anche di là si forma un fantastico triangolo rettangolo dove sto triangolo rettangolo eccolo qui formato sempre dal raggio dalla lunghezza b che ci dobbiamo calcolare e poi dalla distanza tra il vetro e lo schermo che di nuovo c'è stata data sono 50 centimetri quindi in realtà io semplicemente riutilizzo lo stesso ragionamento che ho appena fatto che cosa cambia cambia l'angolo cioè ora teta v non sarà più teta v non saranno più i 17 centimetri sarà un nuovo angolo questo qui vale comunque il ragionamento per cui b il lato b che mi devo ancora calcolare sarà 50 centimetri per la tangente di questo angolo che non conosco chiamiamolo teta dell'area 2 e qua c'è il trucco non devo fare calcoli per trovarmi teta dell'area 2 questo raggio viola arrivava dall'area all'inizio ed è tornato nell'area un'altra volta ma visto che nell'area 1 arrivava con un angolo di 30 gradi questo lo sapevamo fin dall'inizio in automatico nell'area 2 esce di nuovo con un angolo di 30 gradi quindi non devo fare conti è lo stesso angolo dall'altra parte è passato nel vetro ma pazienza l'angolo è rimasto lo stesso finché siete sempre nell'area il lato b è 50 centimetri per la tangente di 30 gradi ovvero 28,9 centimetri o finalmente adesso che sappiamo quanto è lungo il tratto a e quanto è lungo il tratto b mi posso calcolare la y del viola che vi ricordo è soltanto un modo per dire dove cade la luce viola sullo schermo y del viola che è il tratto a più il tratto b è uguale a 3,06 centimetri più 28,9 centimetri e quindi 32 centimetri la luce viola casca nella posizione 32 centimetri il problema è finito vi piacerebbe devo rifare tutto identico per il rosso perché la luce rossa avrà un risultato differente per via del fatto che l'indice di rifrazione n del vetro per il rosso è diverso non vi viene uguale io adesso vi dico se avete capito il ragionamento provate a fare il calcolo voi io non lo rifaccio tutto quanto perché mi sembra abbastanza inutile facciamo finta che l'ho fatto per giusto per vedere che cosa succede alla fine se fate tutto il conto vi trovate y rossa facciamo finta che vi esca non è vero 34 centimetri non lo so se esce veramente 34 a questo punto per rispondere alla domanda quanto è larga la banda luminosa faccio la differenza tra questi 34 centimetri che è la posizione del rosso meno i 32 centimetri che sono la posizione del viola e quindi la banda luminosa mi verrebbe larga due centimetri ripeto i numeri mi sono inventati questi qua finali con il rosso rifate lo stesso ragionamento del viola paro paro questo è un esercizio tosto sulla rifrazione per concludere vediamo un esercizio sull'angolo limite avete un cavo di una fibra ottica come fatto questo cavo della fibra ottica all'interno a un materiale che ha indice di rifrazione n uguale a 3 all'esterno è coperto da un altro materiale che ha indice di rifrazione n uguale a 2 questo immaginatevi che sia un cavo tagliato ne state vedendo una sezione longitudinale cioè per il lungo praticamente un raggio luminoso manco a dirlo viene sparato all'interno del materiale centrale quello con n uguale a 3 vogliamo sapere due cose quanto vale l'angolo limite in questa situazione quindi l'angolo oltre il quale quel raggio rosso non passa nel materiale giallo ma viene completamente riflesso indietro seconda domanda in quanto tempo il raggio compie un tragitto di 200 chilometri per rispondere alla prima domanda molto semplice c'è la formula ovvero il seno dell'angolo limite è n fratto n quale n devo prendere sopra quale devo prendere sotto sopra più piccolo sotto più grosso quindi al numeratore c'è l'n giallo al denominatore c'è quello bianco quindi seno di teta limite è due terzi quindi l'angolo a due terzi assolutamente no devo tirar fuori teta limite dal suo seno mi raccomando vi prego vi scongiuro vi imploro non dividete per il seno questa cosa è illegale in tutte le nazioni del mondo anche nel vaticano per togliere quel seno devo applicare una formula apposita che è l'arco seno quindi faccio arco seno del seno di teta limite a sinistra e contemporaneamente lo applico anche a destra a sinistra arco seno ammazza il seno sono opposti si uccidono e quindi teta limite è l'arco seno di due terzi per farlo fare la vostra calcolatrice la calcolatrice l'arco seno lo chiama seno alla meno uno ed è circa 42 gradi quindi se voi riuscite a far incidere il raggio disegnato in rosso con un angolo di almeno 42 gradi quello non riesce a scappare dal cavo e rimane all'interno per rispondere alla seconda domanda in quanto tempo il raggio compie 200 chilometri non spaventatevi cioè vi chiede il tempo ed oddio ma non ci sono formule col tempo in questo argomento lo so benissimo perché per rispondere alla domanda b uno non deve sapere niente di rifrazione deve usare le formule del moto se vi chiedono il tempo e sapete la distanza si utilizza la vecchia formula velocità uguale a distanza fratto tempo invertite questa formula e quindi il tempo che state cercando è la distanza percorsa fratto la velocità la velocità di chi la velocità dell'onda cioè del raggio luminoso e voi lo so che state pensando ma io non ce l'ho la velocità del raggio luminoso è verissimo ma qui entrano in gioco le formule specifiche della rifrazione posso calcolarmi la velocità del raggio tramite l'indice di rifrazione io so che n è uguale a c fratto v c è la velocità della luce nel vuoto v è la velocità in quel materiale quindi v se io la voglio è c fratto n quale n devo prendere dei due quello in cui sono cioè quello in cui si muove il raggio rosso che è l'n uguale a 3 quindi dovrò fare 3 per 10 all'ottava fratto 3 mi viene 1 per 10 all'ottava metri al secondo questa è la vostra velocità ora mi posso calcolare il tempo delta t sarà la distanza percorsa cioè 200 chilometri 200 per 10 alla terza metri fratto 1 per 10 all'ottava metri facendo il conto ottenete 2 per 10 alla meno 3 secondi quindi due millesimi di secondo questo raggio luminoso si fa 200 chilometri in due millesimi di secondo mica male qui qualcuno potrebbe dirmi è però il raggio tecnicamente non si muove in linea retta l'ho disegnato sbilenco se io vado a vedere il suo percorso all'interno del cavo sto coso mica tira dritto continua a rimbalzare immaginatevelo come una pallina che continua a fare pam 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 e pian piano procede in avanti avete assolutamente ragione però in questi casi non sapete in realtà con precisione quanto è grosso il cavo quanto per quanto se il cavo è tutto dritto un sacco di robe che non sapete quindi si fa finta che il raggio luminoso tiri dritto anche se nel disegno non è assolutamente così anche se in realtà non è così facciamo finta che sia vero e quindi posso usare la formula velocità uguale a distanza fratto tempo senza nessun problema